Il emotto è sempre il solito, vietato sbagliare. Domenica la Biellese scenderà in campo a Varallo, formazione che attualmente occupa l'ultimo posto della graduatoria e, insieme al Borgo Vercelli, è bene distanziata dai play-out e vicina alla retrocessione diretta. Anche la Biellese non sta offrendo la propria versione migliore, ma le ultime due vittorie casalinghe, pragmatiche e di misura, hanno rilanciato la corsa dei Lanieri, di nuovo ad un tiro di schioppo dallo Stresa capolista. Sono tre i punti che separano le due contendenti alla Serie D, con la Biellese che ha una partita in meno. I calcoli vanno però fatti dopo la partita sull'erba di Roccapietra, frazione alle porte del paese valsesiano. Un campo dove comunque il Varallo, al netto della stagione difficile, ha fermato lo stesso Stresa, che qualche settimana fa ha centrato il pareggio solo in extremis grazie al solito secci, bravo a pareggiare il vantaggio di Imo. I neroverdi di mister Stefano Cesano hanno finora conquistato una sola vittoria, nello scontro diretto contro il Borgo Vercelli, che rimane comunque sopra ai valsesiani. Il Varallo ruota attorno ai gol dell'attaccante Jeffrey Imo, ben noto nell'eccellenza piemontese, veloce ed abituato a segnare. A gennaio dalla Calabria è arrivato anche il centrocampista Mané, solo omonimo della stella della Liverpool. All'andata, sul sintetico di corso 53esimo fanteria, la Biellese passeggiò con un agevole 4-0. Due gol di Panatti, il primo dopo un'azione veramente molto bella, e un colpo da biliardo di Varbelli valsero la contesa già nel primo tempo. Nel finale, il giovane Messina mise il quarto timbro. Biellese che scenderà in campo con un orecchio, come sempre, alla gara dello Stresa. I Blues, dopo il pareggio casalingo nel derby con il Baveno, affrontano la difficile trasferta di Settimo Torinese contro le Violette, squadra tosta specialmente in casa. La Fulgor Valdengo ospita invece in casa il Borgaro. La corsa play-out è molto serrata e i punti pesano il triplo. Il campionato è ancora lungo.